Non era su scherzi a parte, questa volta l'ex giocatore di Roma, Milan, Parma, Inter, Cristian Panucci è stato protagonista di un fatto di cronaca nera. Lo hanno minacciato con la pistola e gli hanno portato via un orologio, pochi contanti e una borsa. A quanto si apprende Panucci sarebbe stato seguito all'interno della sua villa da due uomini che approfittando dell'apertura temporanea del cancello sono entrati dietro l'ex calciatore. A quel punto gli hanno puntato contro una pistola intimandogli di consegnare portafogli e orologio. I due poi si sono dati alla fuga.